Allora era un sabato, esattamente due mesi fa come oggi, il primo ottobre, quando Monsignor Domenico iniziava, chiamiamola, la sua avventura in questa chiesa particolare di San Zeno. Così, anche se esula un attimo da quello che è il tema di questa sera, vorrei chiederle come sono state queste prime settimane qui a Verona. Sono state molto movimentate, direi che sono state decine e decine le occasioni in cui ho avuto modo di entrare a contatto con questa realtà per me del tutto sconosciuta, che ho trovato molto vivace, molto interessante e direi segnata soprattutto da una profonda esperienza cristiana che viene da molto lontano e che al tempo stesso vedo essere capace di reinventarsi in questo nuovo contesto. Per cui sono molto colpito da questo singolare impasto che ho trovato qui a Verona e di intorni tra la fede cristiana e una modernità che in qualche modo è stata vissuta, diciamo così, da parte dei cristiani, non in regime di sudditanza come spaventati, ma capace invece di sapere stare ed abitare questo mondo. E direi che anche la televisione, che questa sera andiamo a ricordare a 45 anni della sua costituzione, è in fondo un segno di questa capacità dei credenti di stare nel mondo di oggi. Ecco, lei diceva Telepace è una realtà sconosciuta, ma sicuramente il nome non era sconosciuto. No, no, io mi riferivo alla chiesa come tale, Telepace la conoscevo come no, conoscevo bene anche Don Guido, conoscevo pure te, quindi diciamo che... Lei è sempre stato un appassionato dentro al mondo della comunicazione, lo ricordiamo direttore dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali della CEI e oggi Presidente della Commissione CEI Cultura e Comunicazioni. Posso chiederle qual è il panorama in Italia della comunicazione nella chiesa, TV ma non solo? Beh, è un panorama abbastanza ricco che nel corso degli anni è andato crescendo, se penso appunto non soltanto alle radio ma anche alle televisioni, oggi direi a tutto quello che è il mondo della rete che vede una presenza assai significativa e direi che è questo forse l'elemento di novità rispetto a 45 anni fa, il fatto cioè che la rete abbia un po' riplasmato tutti i media tradizionali e li abbia in qualche modo reinventati, lo abbiamo visto anche a proposito della radio, di Radio Pace, come questa innovazione tecnologica segni di necessità gli strumenti più tradizionali. Direi che c'è a livello di singole diocesi un impegno crescente che si scontra però con un problema che è facilmente intuibile, cioè il fatto che l'investimento sui nuovi media ma anche sui media tradizionali deve fare i conti con la realtà anche economica e perciò ci sono diocesi che in qualche modo stanno cercando di verificare la sostenibilità di questi nuovi mezzi e al tempo stesso però mi pare che tutti si sia ormai persuasi del fatto che non si può non stare dentro questo contesto della comunicazione e quindi bisogna trovare forme nuove per cercare di far quadrare i conti perché la possibilità per la Chiesa di dire una parola all'interno di questo mondo è assolutamente ritenuta fondamentale. Ecco ricordavamo all'inizio come 45 anni fa Radio Pace prima e Tele Pace poi nascevano come una realtà privata per l'intuizione dei ragazzi e la passione possiamo dire di Don Guido che fece proprio la richiesta da parte dei ragazzi. Come oggi anche dal suo punto di vista di Vescovo questa realtà ma non solo la televisione deve porsi dentro a quella che è la vita ecclesiale. Beh esattamente come avete fatto voi da 45 anni a questa parte. Deve essere un modo intanto perché soprattutto le fasce più giovani possano esprimersi. In fondo quello che il ragazzo chiese a Don Guido la possibilità che quello che loro stavano sperimentando in questa casa di vacanza potesse essere conosciuto anche dai suoi è quello che la televisione dovrebbe fare cioè rendere anche altri a conoscenza di quello che la Chiesa è e vive. Perciò direi che la missione non è cambiata nella sostanza ed è quella di far sì che le esperienze che si vivono all'interno della Chiesa possano essere conosciute anche da altri perché spesso tutto quello che la Chiesa vive e fa nel mondo del volontariato, nel mondo della società civile all'interno delle sue strutture educative spesso non è conosciuto e una televisione come una radio può essere una preziosa forma di diffusione di queste notizie. Perciò io penso che l'intuizione di quel bambino sia ancora vera, naturalmente deve essere declinata in forme diverse perché come dicevamo la comunicazione è forse l'ambito della vita quotidiana che è più soggetta a delle profonde trasformazioni quindi dobbiamo probabilmente far sì che questo avvenga tenendo conto di queste trasformazioni ma mi ha molto colpito in quella intervista, anzi in quella sorta di comunicazione fatta da Hong Kong dal noto giornalista Rai che è stato qui a Telepace più di 20 anni fa immagino come comunicatore perché non credo che facesse altro. Ecco è molto importante fare di questa esperienza un'occasione per giovani che si affacciano all'esistenza, a una opportunità e questo secondo me significa lavorare perché soprattutto le generazioni più giovani che sono anche quelle più duttili nella capacità di conoscenza dei nuovi linguaggi possano essere coinvolti. Il logo di Telepace è una colomba con due ali e un ramoscello d'ulivo da sempre sinonimo di pace e le due ali richiamano, spronano alla solidarietà e alla preghiera sempre è stata una sfida coniugare questi due aspetti con la provvidenza che sostiene questo impegno lei già un po' mi ha preceduto in quanto ho detto prima. Guardando al futuro contando anche sulla sua presenza non dobbiamo dimenticare che sempre i Vescovi di Verona hanno voluto bene a Telepace e l'hanno accompagnata che riflessione si sente di fare oggi come pastore di questa chiesa particolare? Beh intanto il logo di Telepace a me ha sempre colpito per la sua modernità e anche per essere diciamo una comunicazione diciamo in cifra di quello che era il messaggio di amore, di pace e in fondo di Vangelo che questa televisione portava con sé per cui non so chi l'abbia inventato il logo non so se è Don Guido o qualche ragazzo della prima ora ma sicuramente è un bellissimo logo che parla molto e in questo tempo drammatico della guerra mi pare che parli ancora in modo più efficace e credo che non bisogna scoraggiarsi di fronte alle difficoltà ma trovare modo di credere come ha sempre fatto Don Guido nella provvidenza e non senza tener conto anche del fatto che la provvidenza in qualche modo bisogna cercarla, bisogna in qualche modo intercettarla e quindi da questo punto di vista io credo che questa chiesa di Verona come sempre ha fatto perché insomma tutti sappiamo che è sempre stata anche una mano invisibile di questa realtà sostenendola dal di dentro possa continuare a dare la sua partecipazione anche perché devo dire la verità che non trovo questa televisione come fosse di rimpettaia rispetto alla chiesa perché Don Guido è un prete veronese, tu sei un prete veronese quindi in realtà Telepace è un'espressione di questa chiesa e quindi credo che questa chiesa debba custodire questa televisione e cercare di portarla avanti facendo in modo che la provvidenza continui ad esprimersi attraverso una gestione oculata sempre di più Un'ultima domanda, con il passaggio al digitale terrestre di seconda generazione Telepace è stata un po' penalizzata perché oggi nel Veneto ma poi anche a Roma e a Rieti siamo sul canale 76 e il canale 75 Io mi chiedo sempre con tante televisioni private che fanno una proposta di sport sicuramente non la proposta che fa Telepace cosa possiamo fare perché la gente possa scoprire e possa tra virgolette innamorarsi di Telepace che vuole fare una proposta di qualità che risvegli le coscienze perché credo che oggi messaggi ne arrivano a migliaia però messaggi di qualità sono un po' pochini Beh, credo che bisogna tornare in fondo all'origine cioè a quella intuizione del ragazzino che ha un po' sollecitato Don Guidio che significa oggi in concreto continuare ad investire sulle più giovani generazioni fare in modo che questa televisione sia l'espressione di una comunità più allargata e questo fa sì che allora il prodotto televisivo sia di qualità e poi confidare nel fatto che se una televisione è veramente di qualità sicuramente riesce anche ad attrarre a sé telespettatori di ogni fascia di età e da questo punto di vista la televisione non è più semplicemente il prodotto privato di qualcuno ma è appunto una proposta culturale e spirituale perché Telepace è anche questo io ho sempre detto che avete avuto delle intuizioni importanti come quella per esempio del Rosario da Fatima che poi è stato in qualche modo imitato anche da TV2000 che nel frattempo si è introdotta in questo panorama ma questo significa che bisogna avere la stessa originalità di inventare altre forme sia spirituali che culturali per cercare di attrarre persone perché la questione dell'auditel non è solo una questione economica ma è anche la capacità di verificare che quello che si propone ha effettivamente degli interlocutori perché se ce la raccontiamo in casa nostra serve a poco Ecco io ho aperto ringraziandola per la sua presenza qui a nome di tutta Telepace chiudo dicendo il 21 ottobre per un disguido è arrivato all'ultimo minuto noi siamo disponibili ad averla presso la nostra sede a Cerna anche per conoscere un po' più da vicino già la conosce quella che è la nostra attività le persone che ci lavorano ciò che è Telepace quindi è sempre il benvenuto e Telepace a servizio oggi come ieri della voce del Vescovo ricordo che durante il lockdown abbiamo fatto 96 serate in diretta dalla cattedrale con il Vescovo e è stato veramente un dono di grazia per tante persone perché in un momento difficile hanno potuto ascoltare la parola del pastore grazie Monsignor Domenico grazie a voi, auguri e buona serata grazie grazie